ho notato Martinelli effettivamente forse non propriamente le mani si possono usare per i portieri strana strana questa cosa tra parentesi insomma fa gol anche fa gol anche non certo un altissimo giocatore insomma che poi rischia anche di rifarlo nel finale di tempo non so sembra quasi che voglio colpire di testa sembrava proprio quello no capisco vabbè